Bentornati! Oggi vi mostro la prima maglia del Fulham per la stagione 22-23 in versione FUN, quella dedicata ai tifosi. La nuova maglia home del Fulham 2022-23 è realizzata con l'iconico bianco Fulham. Presenta uno speciale design sui polsini delle maniche e sul colletto che rappresenta il flusso e riflusso del Tamigi, segnando anche il momento storico della prima fase di apertura del nuovo Riverside Stand ai Craven Cottage. Mentre celebra il presente, il Fulham guarda al futuro. I pannelli laterali neri sono presenti tra il corpo bianco centrale. Il retto del colletto include un dettaglio unico dell'Original Football Club di Londra, poiché il Fulham è la squadra di calcio professionistica più antica di Londra, che fa il suo ritorno in Premier League proprio nel 2022-23. La maglia è abbinata a pantaloncini neri caratterizzati dall'esclusivo design ondulato, con cazzettoni bianchi e rifiniture nere. Cosa ne pensate? Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Secondo me è una bellissima maglia, con questo bianco, con questo motivo sul colletto e sul bordino delle maniche, veramente molto bello. Qui in alto vedete il prezzo che vi ricordo include anche le spese di spedizione. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e vi ricordo anche un link per ottenere un coupon da 5$. La maglia è fatta molto bene, i tempi di spedizione sono stati eccezionali. Questa è arrivata in 12 giorni, veramente pochissimo. Ora vi lascio la parte in cui vedrete la vestibilità. Se la maglia vi piace, se vi piacciono questi colori, se vi piace la squadra. Mettete un like e iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. A presto! A presto! C'è tutto! A presto! A presto!